Tu hai, almeno per me, sei esploso con Pesecondigliano Sì, sì, sì Quasi tre anni fa ormai Eh, esatto Da quel momento, aspetta, innanzitutto, com'era? Tu andavi a scuola? Sì, 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 andavo a scuola Com'è stato capire che quella roba lì stava funzionando tantissimo perché ha funzionato e esploso, no? Sì, sì, l'ho capito Allora, immagina che io il video su YouTube di Pesecondigliano l'ho messo appena sono uscito dalla scuola Appena uscì da scuola andai a casa e pubblicai il video di Pesecondigliano Ok Mettendomi d'accordo con Manuel L. Geli Metto il video, ritorno di nuovo a scuola e sentivo che questo brano, prima che girasse su YouTube, girava su WhatsApp Cioè era il brano che girava su WhatsApp tra tutti i ragazzi E io, mentre camminavo nel corridore della scuola, sentivo con le orecchie il pezzo, ma questo sono io Però nessuno sapeva che ero io quello, capisci? Cioè quella canzone iniziava a girare in una maniera assurda tutte le persone Ma quando esce il video, il video, il video E facemmo uscire appunto il video dopo che ero uscito da scuola E il giorno dopo tutte le persone mi vedevano in modo diverso Iniziavano, tipo i prof e tutti i miei amici iniziavano soltanto a chiedermi foto per i figli, video, questo, quello Cioè non ero più il semplice alunno che a scuola andava Mi vedevano tutto con... Cioè te ne accorgi quando ti vedevano con occhi diversi e ti trattavano con occhi diversi da quello che eri prima E quindi proprio con questo ho capito che sarebbe stato il momento di lasciare la scuola Andare via da diciamo quello che mi circondava a livello scolastico Perché tu l'hai lasciato subito poi? Sì, io l'ho lasciata a quasi 16-15 la scuola E non l'ho più continuata Cioè non credi sia una roba... non vorrei fare tipo foto È sbagliato, sì sì sì, per me io sono sempre contro a sto pensiero Però purtroppo io non incito nessuno assolutamente a lasciare la scuola Perché la scuola è importantissima Cioè nel senso io nell'inizio del 2021 andrò a fare dei corsi privati per prendere il diploma privato Perché è importante avere un documento scolastico Da una parte me ne pento pure di non aver continuato la scuola Perché appunto come ho detto prima è importantissimo Però purtroppo quando ti trovi in certe situazioni a 15 anni, quasi 16 Sei piccolo, non sai cosa fare, ancora non hai molta responsabilità Perché giustamente sei piccolo Però stanno già accadendo un sacco di cose Esatto, proprio perché iniziavano ad accadere molte cose per me è stato non meglio Ma è stato buono lasciare la scuola